Pierina La Guardia, 63 anni, è l'ultima vittima della strada e dell'ultimo drammatico incidente avvenuto in Molise. Era in auto con la consuocera sulla statale 747 in agro del comune di Bagnoli del Trigno, quando un camion dell'azienda alimentare AIA le ha tamponate. Come emerso dai primi accertamenti dei carabinieri di Agnone, guidati dal maggiore evangelista che stanno indagando, la vettura stava sostando sulla carreggiata quando il mezzo pesante è sopraggiunto. La Peugeot si è trasformata in una trappola mortale per Pierina La Guardia. Sul posto sono prontamente intervenuti, oltre ai carabinieri di Bagnoli e di Agnone, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Queste ultime hanno trasportato in ospedale a Campobasso la conducente della vettura, una donna di 67 anni a cui è stato riscontrato un trauma cranico e diverse contusioni. Pierina La Guardia era al suo fianco nell'auto. La conducente della vettura è infatti la consuocera della vittima, che era originaria di Trivento. È l'ennesimo dramma che sta vivendo la famiglia La Guardia. Pierina aveva perso il marito lo scorso gennaio e per un periodo aveva deciso di trasferirsi al Salcito nell'abitazione in cui vivono i figli. È ricorso alle cure del personale sanitario del Cardarelli e anche il camionista del furgone, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Intanto continuano le indagini dei carabinieri di Agnone per accertare le responsabilità e le cause dell'incidente.